Il dado che determinerà il futuro di Chieti è oramai tratto. I giochi sono fatti per le amministrative del 20 e 21 settembre. Oggi a mezzogiorno infatti è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste e si entra ora nella tranche finale della campagna elettorale. Sono cinque coloro che aspirano alla poltrona di sindaco del capoluogo teatino. Paolo De Cesare, 28 anni, è il più giovane tra i candidati, erede dell'importante imprese edile di famiglia, ha già ricoperto incarichi in Ance e Confindustria e fa parte del consiglio d'amministrazione del Marrucino. De Cesare è sostenuto da quattro liste civiche. Luca Micone è il candidato del Movimento 5 Stelle, 40 anni, è l'ideatore di una start-up nel campo paramedicale. Micone è stato il primo dei pentastellati non eletti nelle scorse amministrative e può contare su una squadra completamente rinnovata perché i consiglieri grillini uscenti hanno scelto di non ricandidarsi. I 5 Stelle vanno avanti senza alleati, il voto sulla piattaforma russo, tramite cui i militanti del partito hanno aperto le porte ad alleanze territoriali, infatti è giunto troppo tardi per rimettere tutto in discussione. Fabrizio Di Stefano, 55 anni, addetta dei sondaggisti, sarebbe il candidato favorito. Viene da tollo e fa politica da quando era solo un ragazzino. È stato eletto due volte in Parlamento e dopo essere stato glissato da Marsilio come candidato del centrodestra a presidente della regione, è ora scelto come primo cittadino di Chieti da Lega a Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e due liste civiche. Bruno Di Iorio è invece l'outsider, sostenuto da un polo civico di cui fanno parte anche Italia Viva e forzisti ribelli capeggiati dall'assessore regionale Febo, che però si sono spogliati dal simbolo di partito. 60 anni, Di Iorio è medico di famiglia e un tifoso sfegatato del Chieti Calcio. La sua è una candidatura destabilizzante, addetta dello stesso Di Iorio, che infatti ha già provocato non poche frizioni in seno alla maggioranza in regione. Diego Ferrara, dall'alto dei suoi 66 anni, si aggiudica il titolo di candidato sindaco più navigato. È l'unico tra i candidati a sedere attualmente nel Consiglio Comunale di Chieti, in cui è stato eletto tra le schiere del Partito Democratico. Anche lì, medico di famiglia, è sostenuto da quattro liste, imponendosi come candidato del centrosinistra, a cui però non dispiacerebbe, per sua stessa missione, trovare una quadra coi 5 Stelle. Camillo Carapelle, invece, numero uno di una lista tutta scalina, ha deciso di ritirarsi dalla corsa verso la fascia tricolore. Non significa però che non avrà ruolo in queste elezioni, infatti ha già annunciato pubblicamente il proprio sostegno a Di Iorio. In tutto coloro che aspirano a un posto in Consiglio Comunale sono oltre 600. In quanto Chieti supera i 15.000 abitanti, è uno dei comuni dove è previsto il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Insomma, è concreta la possibilità del ballottaggio che si terrebbe il 4 e il 5 di ottobre.